eccoci qui abbiamo una sala dedicata ai bambini dell'istituto comprensivo di villamaina perché ho voluto dare spazio appunto alla creatività dei bambini legati all'arte nello sport lo sport nell'arte partendo dallo scarabocchio dei bambini della scuola dell'infanzia coinvolgendo i bambini della scuola elementare della scuola media e quindi per dare spazio a questa creatività primordiale dei bambini che interpretano appunto la loro visione dello sport attraverso un linguaggio semplice chiaro pulito e immediato come vedete la freschezza di queste opere dei bambini è qualcosa di meraviglioso perché non è condizionata da nessun elemento ecco prego di prendere questi bambini che nuotano queste sono veramente immagini di una freschezza e di un'immediatezza piacevole grazie